Avete capito? E non si fermerà finché noi non lo fermeremo! Scoprite chi è stato! Trovate chiunque sia complice! E poi fateli fuori tutti! Non stanno con la fedra e neanche con le luci. Chi sono? Un nuovo gruppo? Il popolo. Qui siamo al sicuro? Forse, per un po'. Stanno controllando prima dentro le case. Ma presto cercheranno imposti come questo.